Al Vicenza è il primo squillo nei play-out contro il Cosenza, ma quello che è gioco sul campo da calcio si trasforma in violenza che nulla a che fare con lo sport fuori dallo stadio. Un autista SVT sarebbe stato ferito mentre faceva il suo lavoro. Guidava l'autobus navetta messo a disposizione dei tifosi calabresi. Secondo una prima ricostruzione pare che l'autista, finita la partita, stesse riaccompagnando i tifosi al casello autostradale di Vicenza Est quando, alla presunta caduta di uno di loro all'interno della corriera, gli sarebbe stato chiesto di fermarsi. L'autista però avrebbe avuto l'ordine dalla questura di non aprire le porte lungo il tragitto e quindi non si sarebbe fermato. Così sarebbe iniziata l'aggressione. L'autista avrebbe riportato ferite guaribili in sette giorni.